Sarà attivo H24 nel fine settimana per tutto il mese di agosto il servizio del 118 a Campo di Giove. Si tratta di un importante intervento da parte dell'azienda sanitaria per il potenziamento del sistema territoriale, soprattutto nei piccoli centri montani che patiscono di più l'isolamento e le distanze dal nosocomio Peligno. Il servizio del 118 è attivo ogni giorno dalle 20 alle 8, il sabato e la domenica per tutta la giornata, a partire da domani, sabato 1 agosto, fino a fine mese. È stato un lavoro svolto in sinergia tra Comune e ASL, Assessorato regionale della sanità e Croce Verde e Prato la soccorso, interviene il vice sindaco di Campo di Giove Stefano Di Mascio. L'intervento assume una particolare importanza per i turisti che soggiornano nel nostro comune in questa estranea del Covid e per i cittadini. Una notizia che deve spingere ancora di più l'ASL a potenziare la medicina sul territorio per risolvere la carenza di personale, patologia cronica della sanità pubblica.